Sicurezza della navigazione, della balneazione e tutela dell'ambiente marino e costiero. Intensa l'attività della Capitaneria di Porto di Urtona nei primi sei mesi del 2022. 11 visite ispettive in unità navali battenti bandiera straniera, 7 controlli per la tutela dell'ambiente con l'impegno del NOPA e l'elevazione di sanzioni per oltre 50.000 euro, per la pesca con l'iniziativa dalla Rete al Piatto, effettuati 1.282 controlli totali con sequestri e sanzioni per pescatori di frodo, sequestrato anche un cantiere navale. Comandante Francesco Scala, un bilancio questa mattina del primo semestre 2022 per quanto riguarda il compartimento marittimo di Urtona, che ha competenza su ben 75 chilometri di costa della provincia di Chieti, ma anche per annunciare quali saranno le iniziative per affrontare il Ferragosto. Sicuramente la Capitaneria di Porto di Urtona e il suo personale sono pronti ad affrontare il Ferragosto. È un banco di prova, i numeri che mettiamo in campo sono veramente sostanziali e di assoluto valore e privilegio. 47 tra donne e uomini, 3 unità, ci permetteranno di controllare il mare a 360 gradi, quindi ciò che avviene a mare ma ciò che avviene anche nel retroterra, attraverso quindi delle pattuglie terrestri, le quali sistematicamente durante i giorni di maggiore fruizione lungo tutta la costa dei Trabocchi saranno interessate quindi da turisti, balneanti e in generale da tutti coloro che hanno piacere di andare a mare, faremo in modo che la salvaguardia della vita umana in mare, soprattutto la tutela dell'ambiente e la fruizione stessa di quest'ultimo, siano nella migliore condizione per tutti. C'è un numero al quale si può fare riferimento sin da domani? Assolutamente sì, il 1530 che è un numero che è costantemente operativo 24 ore su 24 e anzi mi pregio attraverso la vostra partecipazione di sensibilizzare gli utenti a non esitare ad utilizzare tale numero di telefono e ad utilizzarlo immediatamente perché un minuto perso equivale a mettere la posizione della persona che è in difficoltà e a gravarla nelle sue condizioni stesse, quindi l'utilizzo deve essere immediato, attraverso questo numero possiamo intervenire immediatamente e possiamo salvare quante più persone in difficoltà. Per quanto riguarda le attività dei primi sei mesi del 2022, quale dato vogliamo sottolineare? Il dato che mi prema di sottolineare sono i quasi 100 mila euro di sanzioni amministrative, cioè quindi soprattutto la tutela della filiera della pesca, la tutela dell'ambiente, sono gli obiettivi che stanno più a cuore al cittadino, stanno più a cuore allo Stato e noi ci pregiamo di raggiungerli attraverso il nostro operato.